E salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video super veloce Oggi andiamo a vedere come potete sformare una traccia audio, quindi una canzone, un audio registrato da voi Da stereo a mono e da mono a stereo Utilizzeremo un programma gratuito disponibile sia per Mac che per Windows In questo caso sono su Mac ma non cambia niente per quanto riguarda il procedimento Che è appunto Audacity Studio Il link per scriverlo sarà nella descrizione del video Cosa bisogna fare? Bisogna importare o la vostra canzone o comunque l'audio che volete esportare In questo caso faccio una registrazione audio molto veloce che poi modificherò Quindi basta cliccare qui Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Ok, questa nuova traccia audio che è stata creata è una traccia audio stereo Come possiamo vedere abbiamo due frequenze d'onda possiamo dire Per trasformarla in mono basta selezionarla tutta in questo modo col puntatore Andare su tracce e cliccare da traccia stereo a mono E vedremo che appunto si sarà unificata e si verrà a creare un'unica traccia a mono Per adesso riportarla a stereo, comunque se noi abbiamo una traccia mono e vogliamo portarla a stereo Cosa bisogna fare? Bisogna selezionarla tutta, andare su modifica, duplica E a questo punto cliccare su una delle due tracce, qui in questa freccetta E cliccare su crea traccia stereo E vedremo che la traccia si sarà unificata e sarà diventata appunto una traccia stereo Che differenza c'è tra traccia mono e traccia stereo? Alcuni dispositivi, quali appunto le casse, i Dolby Surround e così via Ovviamente sono casse stereo Vuol dire che diciamo abbiamo alcune parti di audio che si sentono da una cassa Ad esempio i bassi Alcune parti di audio, ad esempio gli altri, che si sentono da una cassa Così da rendere l'audio più fluido, confortevole e migliore nell'ascolto Però può succedere che in alcuni casi abbiamo bisogno di un audio mono Quindi ragazzi il mio video è finito qui Se avete video da richiedere, tutorial da richiedere, fatelo nei commenti Il mio video è finito qui Ciao a tutti e alla prossima